profughi ucraini l'impegno delle parrocchie pesaresi rubarono orologio da 40 mila euro tre arresti furti d'auto presa di mira la zona pentagono giovani in piazza per friday's for la pittura di renato bertini alla pescheria buonasera buonasera a voi amiche amici di rossini tv che ci seguite sul canale 80 eccoci pronti per una nuova edizione di rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 25 marzo apriamo affrontando il flusso crescente di cittadini ucraini in fuga dalla guerra che trovano riparo e accoglienza nel nostro territorio ieri ad esempio ci siamo occupati dell'accoglienza negli alberghi che si sta strutturando oggi invece siamo stati alla casa parrocchiale di milla fastigi dove già da due settimane vengono ospitate alcune famiglie prosegue l'arrivo dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico in fuga dalla invasione russa in tanti stanno arrivando anche nella nostra città nella città di pesaro che si sta strutturando con la carita silocesana con la disponibilità delle famiglie e soprattutto anche con l'azione delle parrocchie quella di villa fastigi è stata la prima ad aprire le sue porte all'accoglienza oggi ci troviamo proprio all'esterno della casa parrocchiale dove don enrico giorgini ci spiega come è strutturato il servizio di accoglienza non è stata diciamo la prima parrocchia a essere disponibile perché le altre parrocchie si sono rese disponibili diciamo che la nostra parrocchia era quella che logisticamente era più facilitata con vicinanza alle istituzioni quindi questura prefettura comune quant'altro e avesse degli grandi spazi noi abbiamo la fortuna di avere una grande casa parrocchiale e anche una struttura grande di oratorio noi come funzioniamo funzioniamo come ospot quindi come accoglienza veloce quindi vengono mandati da noi le persone del comune dal comune servizi sociali emergenza freddo e che è stato attivato proprio per questo emergenza ucraina e vengono qui noi li aiutiamo per i documenti per la scheda sanitaria e quant'altro e poi il comune li ridestina in casa alloggi che trovano nei cas che trovano che hanno trovato per l'ospitalità più lunga quante persone ospitate al momento questo momento sono tre famiglie tre mamme e minori sono nove persone in tutto e già è passata una famiglia che è ripartita ecco siamo un po in divenire sempre abbiamo oltre le persone che già ospitiamo abbiamo ancora quattro posti diciamo in primo arrivo ecco spiego un attimo nel senso che appena arrivano facciamo un tampone ma le lasciamo alcune ore ecco diciamo in isolamento proprio per la sicurezza di tutti sia loro che degli dei volontari noi di casa e poi vengono spostati nei posti o qui in casa o in oratorio negli altri posti che abbiamo preparato tre famiglie donne mamme nonne e bambini minori tra i 4 e i 17 anni che hanno bisogno non solo di un tetto sulla testa ma anche di un'azione caritatevole in tal senso la parrocchia non è sola c'è una forte azione della caritas c'è una forte azione anche della comunità di villa fastigi dei volontari che stanno dando una grossa mano al supporto all'integrazione di queste persone compresi i bambini che stanno recapitando tanti disegni e messaggi di benvenuto ai loro coetanei ucraini noi siamo partiti con questo progetto non solo come parrocchia ma come tutto il quartiere di villa fastigi con il quartiere stesso le associazioni e il nostro moto iniziale è stato il bene va fatto bene e quindi sia ospitarli quindi accoglierli qui in casa ma creare una rete di relazioni con tutte le associazioni che ci sono sul territorio e veramente sentirli farli sentire a casa farli trovare un po di pace dopo quella realtà di guerra di terrore che hanno vissuto che ancora purtroppo portano nel cuore quindi ecco questa umanità questa umanità che abbiamo bisogno di dare loro quindi oltre un letto anche relazioni umanità amicizia e quant'altro ucraini che stanno cercando anche l'integrazione c'è chi si sta sforzando di studiare italiano i primi rudimenti per provare a essere coinvolti nella comunità in cui si trovano oppure c'è Roman 17 anni che giocava a basket in Ucraina che è fuggito da Kiev e che sta cercando un futuro qui magari ancora nel basket l'ex primario del pronto soccorso di Pesaro Umberto Gnudi ha presentato ieri le sue dimissioni da medico dell'azienda ospedaliera Marche Nord un volto in prima linea nei mesi più bui del covid Gnudi ha visto decadere lo scorso gennaio il suo contratto del direttore facente funzioni del reparto d'emergenza che la direzione ha poi affidato a Giancarlo Titolo già direttore del pronto soccorso di Fano ora Gnudi decide così di uscire del tutto da quell'azienda con cui ha convissuto rapporti tesi e divergenze di vedute negli ultimi mesi la cronaca un anno e mezzo fa rubarono un orologio di pregio del valore di 40 mila euro ad un imprenditore pesarese aggredendolo di fronte al cancello di casa oggi i carabinieri hanno arrestato i responsabili rubarono un orologio Patek Philippe del valore di 40 mila euro ad un imprenditore pesarese nell'agosto del 2020 oggi sono stati arrestati tre responsabili del furto in una operazione divisa fra Pesaro, Napoli e Roma portata a compimento in sinergia fra l'arma di Napoli, il RIS di Roma e le stazioni dei carabinieri di Pesaro e Borgo Santa Maria gli arrestati sono tre napoletani due di 43 anni e uno di 33 uno di questi era già ai domiciliari in quanto indagato per un'analoga rapina di Rolex ai danni della nota giornalista di Mediaset Cesare Buonamici questa volta l'orologio di valore razziato fu studiato sull'asse Riccione Pesaro uno dei rapinatori infatti addocchiò l'orologio di lusso al polso dell'imprenditore pesarese durante una cena in un ristorante della città romagnola da lì scattò il pedinamento fino al cancello di casa dell'uomo che assieme alla moglie fu aggredito, minacciato e malmenato fino a quando non gli venne strappato l'orologio dal polso la risposta dell'arma è stata immediata e si è concretizzata in accertamenti sul territorio e in riscontri di laboratorio operati dal RIS su tracce lasciate dai rapinatori sul luogo dell'imboscata le indagini hanno permesso di ricostruire il profilo di professionisti del crimine che si muovevano con documenti falsi, schede telefoniche intestate a persone inesistenti e auto noleggiate o esportate verso altri paesi dopo il colpo i carabinieri sono però riusciti a vagliare tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nel tragitto compiuto dai malviventi indagini tali da raccogliere indizi sufficienti per individuare e incriminare i sospettati non solo, dopo un sopralluogo sul luogo dell'aggressione i carabinieri erano riusciti a ritrovare tra i cespugli anche un braccialetto e un cappellino indossati da uno dei rapinatori dopodiché gli accertamenti eseguiti dalla sozione biologia del RIS di Roma confermarono pure la corrispondenza del profilo genetico di uno degli indagati con quello ritrovato nel cappellino in questione ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 segnalazioni che ci fanno spostare ad un altro genere di furti quelli di automobili sempre più frequenti in città gli ultimi qualche giorno fa nella zona residenziale pesarese delle Pentagono periodo purtroppo di furti d'auto in città furti che si stanno canalizzando nella zona in cui ci troviamo oggi quella di Pentagono e Celletta diverse le segnalazioni giunte alla questura di Pesaro in questi giorni diverse anche le segnalazioni di voi telespettatori a Rossini TV come le foto che vi mostriamo ora inviateci da Emanuela una nostra telespettatrice portiere delle auto forzate e ladri introdottisi all'interno delle macchine per razziare pezzi appunto d'automobile o oggetti all'interno e la foto che vi mostriamo rappresenta solo uno dei tentativi meno riusciti perché nella notte fra mercoledì e giovedì sono state rubate due auto una Volkswagen Tiguan e una Polo fra via del 900 e via D'Ambrosi modelli particolarmente graditi o di facile effrazione perché anche nel parcheggio fra via Veretti e via Chiti dove ci troviamo ora si è registrato il tentativo di furto di un'altra Polo ladri che poi sono penetrati anche all'interno di una Fiat 500 dalla quale è stata asportata una centralina furti che nelle settimane scorse si erano registrati anche in altri quartieri cittadini si tratta di professionisti capaci di forzare le portiere e manomettere le centraline riuscendo a innescare l'accensione senza l'uso della chiave questa zona, quella di Cellette e Pentagono è poi particolarmente sensibile proprio un anno fa le nostre telecamere si accesero qui più volte per rispondere alle segnalazioni dei residenti che denunciavano atti vandalici ai finestrini delle auto nello stesso parcheggio segnalazioni che furono corredate anche da una raccolta firme per chiedere l'installazione di sistemi di videoserveglianza raccolta firme che fu poi inviata a Comune e Prefettura ma richieste ancora non soddisfatte per la frustrazione dei residenti Oggi è venerdì ed è un venerdì con sguardo rivolto verso il futuro anche a Pesaro infatti in contemporanea con tante altre piazze italiane si è svolto lo sciopero del clima con tanti giovani ragazzi della città riuniti per i cosiddetti Fridays for Future Cartelli, slogan e soprattutto una gran voglia di cambiare il domani sono tornati i Fridays for Future sono tornati gli scioperi del clima aizzati dal movimento planetario creato da Greta Thurberg tematica globale con declinazioni locali così anche questa mattina giovani e giovanissimi in piazza del popolo di Pesaro si sono uniti al coro di decine di altre piazze italiane per accendere un altro riflettore sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale tematiche che il covid prima e la guerra poi rischiano di derubricare a paesaggio sullo sfondo di tematiche più pressanti Oggi siamo qui perché vogliamo rimarcare un percorso ambientalista che fortunatamente in questa città si conosce però bisogna forse fare qualche passo in più la manifestazione è organizzata da Friday for Future Pesaro Urbino e coinvolge rappresentanti di istituto delle scuole di Pesaro perché sappiamo che i giovani forse non vengono abbastanza ascoltati in generale ma in queste tematiche dove abbiamo forse ancora qualcosa di più da dire dovremmo essere ascoltati ancora un po' di più è una problematica ambientale che esiste a livello internazionale a livello nazionale i movimenti verso questa direzione forse sono troppo pochi bisogna aumentare, bisogna trovare più soluzioni bisogna assolutamente ascoltare giovani e studenti dopo la manifestazione nei giorni seguenti andremo a presentare un documento con delle proposte pratiche che naturalmente non cambieranno tutto il corso delle cose ma rimarcheranno appunto un percorso ambientalista e appunto presenteremo queste azioni stese e scritte con i rappresentanti di istituto e Friday for Future Pesaro Urbino questo ci darà la possibilità di far sentire la nostra voce io devo dire che purtroppo nel corso degli anni ogni volta c'è una priorità nuova nel senso che prima ovviamente l'emergenza Covid poi l'emergenza economica adesso l'emergenza della guerra sono tutte ovviamente emergenze vere però rischiamo di perdere di vista quella che è un'emergenza che dobbiamo sentirci tutti nostra che è quella l'emergenza ambientale tutto il mondo, come dire, per poter pensare a un mondo migliore dobbiamo pensare che questo mondo va in qualche modo tutelato la politica è ora che faccia delle scelte chiare che vanno in questa direzione rispetto alla sostenibilità purtroppo, ripeto, negli ultimi anni stanno arrivando emergenze sempre nuove ma in realtà non dobbiamo perdere di vista questa i giovani in questi anni hanno veramente faticato tanto soprattutto con l'emergenza Covid sono stati costretti a trasformare quella che era la loro vita oggi essere qui in piazza Colore sicuramente è una cosa molto importante perché mi trovo vicino a loro perché ritengo che il futuro sia dei giovani e che i giovani hanno capito che l'ambiente è una priorità e dobbiamo considerarla tutta Italia soprattutto chi come me ha un ruolo politico e amministrativo questa mattina il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli accompagnato dal consigliere Nicola Baiocchi ha fatto visita al conservatorio Rossini di Pesaro ospite del presidente Salvatore Giordano e del direttore Fabio Masini il governatore si è intrattenuto sulle eccellenze della struttura che compie 140 anni e che è stata da traino alla vittoria a capitale della cultura fra i temi affrontati anche la recente crisi ucraina e l'accoglienza del conservatorio rivolta ai giovani studenti in fuga dal conflitto e parte domani da Cagli la manifestazione Mille Curve delle Marche una nuova rassegna di mototurismo non agonistica che porta ad esplorare i luoghi più suggestivi del territorio in un percorso che unirà le strade più affascinanti fra Cagli e Ascoli Piceno sarà proprio la bellezza dei percorsi intrapresi a determinare il vincitore della competizione attraverso una specifica classifica a punti e anche oggi parliamo di teatro e in particolare di teatro dialettale quello della compagnia Farò Follie che porta al teatro cinema astra di Pesaro Vapeggi de Quangiva Mei spettacolo comico con Erme Soliva Marco Gili, Walter Alessi Massimo Mancinelli, Mira Mangelotti e Anna Renzi che andrà in scena domani alle 21.15 e domenica alle 17.15 Grande teatro anche martedì 29 marzo al Bramante di Urbagna dove andrà in scena Io spettacolo di Lioni d'Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia Antonio Rezza e Flavia Maestrella che calcano le scene dall'87 sempre firmando a quattro mani l'ideazione e il progetto artistico degli spettacoli Io è un classico dei due artisti con la comicità dissacrante e provocatoria di Rezza a muoversi sulla scena disegnata da Flavia Mastrella Parliamo anche di arte e in particolare di pittura perché domani al centro Arti Visive Pescheria di Pesaro inaugura la mostra di un grande artista pesarese come Renato Bertini Oggi abbiamo dato uno sguardo in anteprima alla sua esposizione Inaugura sabato 26 marzo alle ore 18 la mostra Vag del pesarese Renato Bertini la cui pluridecennale creatività artistica sarà apprezzabile fino al 15 maggio al centro Arti Visive Pescheria divisa fra alloggiato e la chiesa del suffragio Vag come onda e come vago doppio senso di instabilità e aleatorietà che rappresenta la cifra stilistica di tutta la ricerca artistica di Bertini classe 1939 Bertini porta in pescheria opere pittoriche incentrate sui temi del corpo e del paesaggio intesi come elementi della natura e come energia esplosiva una natura che Bertini racconta come minima pulsante e contraddittoria in un viaggio intimo che si annoda alle emozioni dell'artista è veramente una sorta di carta bianca e prima di Bertini abbiamo avuto Vangi poi Piattella ai quali allo stesso modo è stato dato a disposizione questo spazio straordinario composto dal punto di vista architettonico da un loggiato che era il vecchio mercato del pesce e da una chiesa secentesca che era la chiesa del suffragio due spazi molto diversi tra loro perché uno longitudinale e l'altro centrifugo in cui l'artista ha veramente espresso anche una sua dote da disegnatore architettonico dunque vediamo che degli elementi proprio dell'allestimento che Bertini ha pensato sono davvero dei segni importanti di architettura non è un'antologica ma è una mostra che percorre tutta la carriera di Bertini ma non in senso cronologico il tempo così delle opere è davvero sincopato e segue piuttosto una narrazione interna all'artista che ha fatto della natura il suo elemento di ispirazione come molti artisti di Pesaro hanno fatto in questi anni avendo un territorio straordinario composto ovviamente dal mare ma anche da un'entroterra da una natura che è assolutamente straordinaria ed ora lo sport ieri sera vi abbiamo mostrato in diretta su Rossini TV la splendida vittoria dell'Ital Service Pesaro che a salso maggiore terme ha vinto 4-0 col Ciampino Agniene i quarti di finale di Coppa Italia di Calcio 5 primo tempo devastante dei pesaresi che archiviano la pratica con la raffica di reti di Salas Onorio Cuzzolino e De Oliveira un 4-0 che domani proietta l'Ital Service alla semifinale contro Matera per l'occasione la società pesarese organizza pure un pullman gratuito di tifosi verso salso maggiore per sostenere la squadra di Colini alla conquista della finale una finale che eventualmente si giocherebbe domenica sera con la vincente di Petrarca Padova Olympus Roma e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News non si conclude però qui lo spazio dedicato all'informazione perché dopo il DTG alle 20 il venerdì è l'appuntamento fisso con il Vallefoglia il Pian del Brusco lo magazine condotto da Edoardo Orazzi appuntamento dunque alle 20 prima replica alle 23 e 15 questa sera la prima serata delle 21 eventi è invece dedicata al nostro speciale realizzato all'hotel Baia Flamina di Pesero in occasione della nona assemblea elettiva di Pesero Urbino per quel che riguarda la CIA ovvero gli agricoltori italiani della provincia assemblea che ha eletto anche Sabina Pesci come nuovo presidente provinciale dell'associazione appuntamento dunque alle 21 e 20 e poi vi ricordiamo anche l'appuntamento fisso della mattina con la diretta della rassegna stampa Buongiorno Rossini tutti i giorni dal lunedì fino al sabato sabato che sarà condotto dal nostro Antonio Astuti come sempre in diretta alle 7.20 e domani sabato 26 marzo è anche la giornata di Wipesero TV il nostro format realizzato con il comune di Pesero che ci porta ospiti alla conoscenza delle varie tematiche della amministrazione domani la ospite del nostro Antonio Astuti sarà Aidi Morotti assessore alla sostenibilità e alla coesione appuntamento domani alle 13.30 e poi torna l'appuntamento in diretta con le sante messe di Rossini TV l'appuntamento fisso della domenica mattina questa volta saremo alle 11.15 di domenica 27 marzo alla parrocchia San Carlo Borromeo di Pesero Santa Messa che potrete rivedere anche in replica alle ore 18 e vi anticipiamo anche la prima serata di domenica torna il format storie con due puntate in ricordo del compianto imprenditore Giovanni Ranocchi alle 21.15 storie racconti di successo nella provincia di Pesero e Urbino in ricordo dunque di Giovanni Ranocchi e dunque tanti appuntamenti sul canale 80 di Rossini TV che vi terranno compagnia in questo fine settimana è invece davvero tutto per quello che riguarda il nostro telegiornale di questa sera ora ci sono le previsioni del tempo e a me non resta altro che augurarvi una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi grazie grazie grazie